Musica Ancora buonasera da Milano Pavia News, questa è l'edizione Pavia, vediamo i titoli. Musica Le macchine agricole, diverse le segnalazioni, blackout dei telefonini di qualsiasi operatore, Borgo Priolo le prese da tempo con l'assenza di segnale, l'allarme lanciato dal sindaco che denuncia siamo isolati, fate qualcosa. Vi mostriamo in anteprima le prime immagini di Cosmos, il nuovo museo di storia naturale dell'Università di Pavia che verrà inaugurato nel weekend, divulgazione per innalzare l'interesse su temi ambientali. Si svolta oggi l'autopsia sul corpo della vittima 26enne dell'incidente sul dosso di Viascopoli a Pavia e proprio sulla segnaletica posta prima del dosso che si concentrano le attività degli investigatori. E' stata eseguita oggi all'Istituto di Medicina Legale dell'Università l'autopsia sul corpo di Riccardo Tirelli, il 26enne, morto nell'incidente avvenuto nella notte tra lunedì e martedì in Viascopoli a Pavia. Sulla vicenda la procura ha aperto un'indagine per omicidio colposo, sul caso sta ora indagando la polizia stradale che ha effettuato rilievi sul posto e che ha già visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. In uno dei video si vede l'auto, una Mazda Spider, perdere aderenza dopo essere salita sul passaggio pedonale rialzato, costruito solo pochi giorni prima. Dagli accertamenti la vettura viaggiava a circa 80 km orari. A bordo della Mazda c'era anche un amico del 26enne già sentito dagli inquirenti dopo il ricovero al San Matteo. Nei prossimi giorni saranno poi sentiti il progettista dell'attraversamento pedonale rialzato di Viascopoli e i responsabili della ditta che l'ha realizzato. L'inchiesta dovrà infatti fare luce sull'esistenza di eventuali responsabilità nella costruzione del DOSSO. Gli agenti della postrada hanno analizzato la distanza tra la segnaletica verticale e l'inizio dell'attraversamento che delimita una zona a 30 km orari. A quanto risulta le strisce già le nere prima delle rampe, la cosiddetta segnaletica orizzontale, sono state invece realizzate solo nella giornata di martedì, poche ore dopo il drammatico incidente. I dossi di Viascopoli sono soltanto uno dei tanti interventi sulla viabilità che sono stati fatti in questo mese di settembre a Pavia. Altri se ne effettueranno a partire da lunedì. Vediamo. Lungo Ticino, ma non solo, partiranno con l'inizio della prossima settimana i lavori di asfaltatura delle strade in tutta la città, annunciati poco prima del break per le vacanze estive. Un piano di interventi da 700 mila euro complessivi, suddiviso in due lotti. La prima parte dei lavori costerà complessivamente 300 mila euro alle casse del Mezza Barba e riguarderà sia gli asfalti che i marciapiedi del capoluogo, senza dimenticare il ripristino di quei tratti letteralmente devastati dalla posa della fibra ottica. Le profonde cicatrici rosa lasciate da Open Fiber saranno dunque cancellate. Un pasticcio che ha creato una lunga diatriba tra comune ed azienda. Come anticipato, l'intervento più importante sarà il rifacimento di Lungo Ticino, nel tratto compreso tra il ponte coperto e la rotonda di Porta Garibaldi. Verranno inoltre realizzati i riempimenti in quegli stali inutilizzati a causa del deterioramento del fondo stradale. L'obiettivo dell'amministrazione è di riuscire a limitare il più possibile i disagi al traffico. Nel primo lotto di lavori rientrano poi via Bramante fino agli Ottagoni, via Sora e via 11 Febbraio. Interventi infine in via Le Libertà, via Legorizia e Ticinello. Rimane al centro delle coronache la Eredi Bertè di Mortara, teatro del grande incendio di due anni fa. Ora si scopre che l'azienda non avrebbe versato al comune le imposte per anni. Mentre nell'area di via Fermi, a Mortara, 12 mila metri cubi di rifiuti bruciati sono in attesa di bonifica, viene alla luce un'altra questione legata alla Eredi Bertè. Migliaia di euro di debiti verso il comune. L'azienda di smaltimento rifiuti, coinvolta in incendi drammatici fra il 2017 e il 2018 e dichiarata fallita lo scorso mese di luglio, non pagava l'Imu e altre tasse locali come tari e tasi da anni. Il debito dovrà essere quantificato dalla tribunale e per questo il comune, guidato da Marco Facchinotti, ha dato mandato con una delibera di giunto a un legale che si occuperà di chiedere al giudice di Pavia di essere ammesso fra i creditori del fallimento. Al momento, secondo quanto evidenziato dai documenti del comune, mancano all'appello i pagamenti della tassa sui rifiuti per il 2018 e il 2019, quelli relativi alla tasi, la tassa sui servizi per gli ultimi cinque anni e l'Imu a partire dal 2012. Come detto, l'area in attesa di una bonifica che potrebbe costare più di un milione di euro a fronte di una garanzia fideiussoria prestata dall'azienda di soli 300 mila. Il titolare dell'azienda, Vincenzo Bertè, è a processo per stoccaggio irregolare con il comune e l'associazione Futuro Sostenibile in Lomellina che si sono costituiti parte civile. Martedì sera, intanto, in Consiglio Comunale verrà discussa l'interrogazione del consigliere del Partito Democratico, Marco Barbieri, sugli intrecci societari che legherebbero le aziende attualmente titolari di appalti per la nettezza urbana del comune di Mortara a società riconducibili alla famiglia Bertè con affidamento diretto senza gara. I carabinieri di Bressana Bottarone hanno arrestato un 17enne italiano per detenzione di sostanze stupefacenti a fine di spaccio. E minorenne era stato fermato la notte scorsa insieme al fratello di 20 anni in Piazza Albini a Lungavilla. Mentre il fratello era stato trovato in possesso di droga per uso personale, il 17enne aveva con sé 50 grammi di marijuana e in casa ne aveva ulteriori 80 grammi, motivo per cui è stato portato al carcere minorile Beccaria di Milano. Ci occupiamo ora di una questione che sta facendo molto parlare in bassa lomellina ma non solo e che tratteggia una vera e propria guerriglia tra cacciatori e agricoltori sulle sponde del Po. Portiere rigate, gomme squarciate e assicelle con i chiodi mimetizzate sulle strade sterrate e nella vegetazione. A pochi giorni dall'avvio della stagione venatoria sulle rive del Po, fra Mezzana Biglie e San Nazaro De Burgondi, è iniziata una sorta di guerriglia con i cacciatori che denunciano preoccupati questa situazione. Oltre ai danni alle auto, poi, c'è anche il timore di gravi ferite. Un appassionato avrebbe calpestato una serie di queste terribili assicelle, col risultato che un chiodo gli ha trapassato allo stivale sfiorando le dita, senza, per fortuna, ferire il piede. Gesti incomprensibili, oltre che molto pericolosi, fanno notare alcuni cacciatori perché rivolti verso persone che non arrecano alcun danno, praticando la propria attività preferita nel rispetto della legge. Secondo alcuni in paese, ad agire, però, potrebbero non essere individui che gravitano nell'orbita dell'animalismo oltransista, ma piuttosto la vicenda sarebbe da inquadrare in una situazione di forte tensione, più volte emersa in passato, fra cacciatori e agricoltori. E proprio sulle rive del Po si racconta che se da un lato i cacciatori devono stare bene attenti a dove mettono i piedi e a dove passano con i fuoristrada per via dei chiodi, dall'altro ci sarebbero agricoltori che si sono trovati nei campi delle barre di ferro piantate all'interno delle colture di Gran Turco, un sistema architettato, si dice, per arrecare danni meccanici gravissimi alle mietitrebbie. In provincia di Pavia sono 1.500 i lavoratori del comparto Energia, per loro un nuovo contratto nazionale. È stato raggiunto nella notte l'accordo per il rinnovo del contratto nazionale del settore Energia, che in provincia di Pavia coinvolge 1.500 lavoratori, la maggior parte impiegati nel polo di San Nazaro. Le febbrili trattative in corso a Roma erano state infatti il motivo dello slittamento dell'incontro tra i dirigenti ENI e rappresentanti dei lavoratori a seguito dell'incidente dello scorso martedì. Diversi delegati sindacali erano impiegati su due fronti. In attesa di fare punto sulla situazione della raffineria di San Nazaro, si è intanto raggiunto l'obiettivo del nuovo contratto nazionale. È previsto un aumento salariale di 120 euro complessivi che avverranno in tre diversi scaglioni da qui al 2021. La trancia più consistente sarà il prossimo anno. Ci sono stati importanti interventi sulla parte normativa, in più significativo il nuovo modello di valutazione che avrà il compito di far ripartire la crescita professionale degli addetti. Il testo verrà ora sottoposto alle assemblee dei lavoratori e costituirà la base anche per i dipendenti delle aziende a partecipazione pubblica che si occupano di energia. Torniamo a Pavia con la politica. Tante le questioni che verranno affrontate nelle prossime sedute del Consiglio Comunale. Ripartono i lavori del Consiglio Comunale dopo la pausa estiva e non sarà una ripresa soft. Sono infatti già due le sedute calendarizzate a Palazzo Mezzabarba per le serate del 23 e del 30 settembre. Diverse le delibere da affrontare, spicca in particolare la Costituzione della Commissione di Garanzia, la cui Presidenza aspetta alle minoranze. Arriveranno il bilancio consolidato del Comune di Pavia con successiva discussione degli ordini del giorno alle linee di mandato del Sindaco che sono stati rimandati dopo la pausa e successivamente nella giornata della serata del 30 si discuterà di alcuni argomenti altrettanto importanti. Primo su tutti la Costituzione della Commissione di Garanzia che tutti ricorderete è una commissione la cui Presidenza aspetta alle minoranze, comunque ha un'espressione della minoranza. Ma gli argomenti non si esauriscono qui. Il Consiglio Comunale è chiamato a deliberare su una variazione di bilancio e dovrà inoltre affrontare la gestione economica di Apolf, l'Agenzia Provinciale per l'Orientamento, il lavoro e la formazione. Dopodiché avremo da trattare una variazione di bilancio arrivata recentemente all'attenzione dei consiglieri comunali e due delibere che riguardano il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo di Apolf. Quindi sicuramente questioni delicate, questioni che andranno affrontate nel merito. Ricordo a tutti che da quest'anno le registrazioni del Consiglio Comunale sono in diretta streaming, quindi si possono seguire live nel caso qualcuno non avesse voglia di venire qui con noi ma avesse voglia comunque di seguirci. Una donna di 89 anni è stata salvata dai carabinieri dopo essere rimasta bloccata da un infortunio domestico. È successo a Vigevano, la signora si trovava nella sua casa al quinto piano di un palazzo di via Santa Rita da Cascia quando è caduta nella vasca da bagno. Non riuscendo a rialzarsi ha iniziato a chiamare aiuto attirando l'attenzione dei vicini. Questi hanno chiamato i carabinieri pensando a un'aggressione. Una volta arrivati sul posto i militari hanno capito che cosa era successo e con l'aiuto di un assistente domiciliare sono entrati in casa e hanno prestato soccorso alla donna. Raccogliamo una segnalazione che ci arriva da Borgo Priolo. Lì c'è una totale assenza di segnale per i telefonini sia per le chiamate sia per il traffico internet. Con qualunque operatore in quasi tutto il territorio comunale i telefoni e le connessioni mobili sono KO, impossibile pensare di rimanere ancora lungo in questo stato di isolamento. Così il sindaco di Borgo Priolo, Paolo Pre, che assieme ai tecnici del comune sta svolgendo un'accurata indagine per verificare quasi casa per casa la situazione e chiedere di conseguenza alle autorità competenti una soluzione. Il nostro territorio Borgo Priolo che si estende su circa 30 km quadrati, tre valli, quindi un territorio molto esteso, da tempo, da anni abbiamo questa problematica. La telefonia mobile è un disastro. Senza fare riferimento ad operatori in particolare, tutti gli operatori hanno problematica proprio nella ricezione di chiamate in uscita del telefono. Ci sono alcune zone dove nessuno dei principali operatori nazionali funzionano. Ultimamente un paio in particolare ci hanno riferito, hanno spento, stanno spegnendo le antenne del 3G per prepararsi probabilmente a nuove tecnologie, risultato che noi siamo inchiodati. Ci sono zone dove non è possibile ricevere o fare una telefonata col cellulare. mi sembra che nel 2019 sia abbastanza. Proprio recentemente abbiamo deciso di fare una mappatura del territorio, visto che è così grande, proprio frazione per frazione, via per via, per verificare dove prende uno, dove prende l'altro e assieme all'UNCEM, l'Unione Nazionale delle Comunità Montane, inviare questo dossier a tutti gli organi che si occupano della comunicazione a livello nazionale e lo invieremo anche il Governo e il Parlamento per cercare di puntualizzare, insomma mettere in evidenza questa situazione che non riguarda solo il mio comune, anche i comuni limitrofi hanno problematiche di questo genere. Questo genere di isolamento inoltre, spiega il Sindaco, creerebbe anche un problema secondario ma non meno importante e cioè la minore appetibilità degli immobili del Paese e delle sue frazioni. Ormai il cellulare è diventato l'unico mezzo di comunicazione. Si va avanti, il telefono di casa viene abbandonato, viene anche utilizzata la schedina per i sistemi di allarme, per le videosorveglianze. Se non funzionano tutte queste restano a palo. Un disastro! Buona notizia arrivano invece da Vellezzo Berlini dove prosegue a pieno regime il cantiere per la costruzione della nuova scuola. Il primo lotto dei lavori con aule e laboratori verrà completato entro Natale, poi nei mesi successivi si passerà alla costruzione delle sale comuni, della mensa e della palestra. A Vellezzo Berlini prende forma il progetto della nuova scuola comunale che ospiterà i 170 alunni del Paese. L'investimento complessivo ammonta circa 6 milioni di euro e le nuove aule potrebbero venire utilizzate già a partire dal prossimo anno. Siamo riusciti a mettere in piedi questa prima parte del plesso scolastico. Ospiterà i 170 bambini che sono presenti adesso nella scuola elementare attuale che è si tavellezzo. Potrà contenere fino a un massimo di 300 bambini. Il progetto prevede almeno in teoria la possibilità di un ampliamento futuro. Non credo che ci sarà il caso, non penso che qui ci sarà mai la necessità di ampliare la scuola, ma anche nel caso in cui dovesse servire la terza sezione sarà facile realizzarla perché è costruito a moduli, a blocchi, basta prendere un modulo, replicarlo e unirlo. All'interno della scuola, costruita quasi interamente in legno, secondo le normative di sicurezza attualmente in vigore, troveranno spazio 14 aule e laboratori per una capienza complessiva di circa 300 bambini. La nuova mensa scolastica sarà poi costruita tra il nuovo plesso e la scuola materna già esistente, così da andare incontro alle esigenze di entrambe le strutture. Il primo lotto comprende le aule, praticamente la parte didattica, c'è un secondo lotto molto più piccolo che comprende, come dicevamo, la sala dei professori e la sala lettura, eccetera, e verrà realizzato dietro questo volume. Il refettorio verrà realizzato tra la scuola materna e la nuova scuola elementare, facendo da cerniera tra i due plessi e verrà utilizzato sia dai bambini della scuola dell'infanzia, sia dai bambini più grandi della scuola elementare. La palestra verrà realizzata a fianco della scuola in modo che comunque non ci siano percorsi esterni come invece ci sono adesso, si potrà accedere a tutte le strutture stando al chiuso e la palestra pensiamo ovviamente di realizzarla in modo che possa venire utilizzata anche dall'esterno alla sera, ok, con dei percorsi separati in modo che la scuola sia separata e non ci siano percorsi misti. Scendiamo più a sud fino a Travacò che prosegue nel suo progetto di città slow. Dal 2015 Travacò Siccomario è una delle 284 città cosiddette slow di tutto il mondo, un concetto a 360 gradi che punta sostanzialmente a un miglioramento della qualità complessiva della vita, se ne è parlato tra l'altro sabato in un convegno organizzato proprio qui a Travacò Siccomario, ora ne abbiamo parlato con il consigliere delegato. Allora, prima di tutto le quasi 300 città slow in tutto il mondo sono quelle città che tutelano dei sani principi, i principi del buon vivere. Possono essere diverse anche le azioni che può fare un comune come ad esempio Travacò che è la cementificazione pari a zero, la tutela del verde, le piste ciclabili. Sono veramente tante le cose che si possono fare. Questa è città slow. Città slow è anche tutela del territorio, tutela e valorizzazione del territorio, anche tramite un turismo sostenibile. Questo sabato è avvenuto Slowpò, si chiama così questo evento, che è organizzato dalla comunità Slow Food del Siccomario e puntava appunto a far conoscere il territorio con le sue peculiarità, i suoi prodotti e anche creare un incontro tra altri comuni per far capire qual è la buona cosa di essere una città slow. Al di là di questo evento quali saranno i progetti quindi di Travacò in ottica slow? Allora in ottica slow senza dubbio è mantenere e ampliare, adesso visto che siamo nelle vicinanze, la festa degli alberi che avviene sempre a novembre, a livello mondiale 24 novembre, quindi quest'anno vogliamo dare anche un'impronta un pochettino più significativa che è nella lotta al cambiamento climatico, quindi gli alberi sono una risorsa indispensabile per questo, quindi quest'anno sicuramente avrà una grandissima piantumazione lungo il territorio. Senza dubbio tutto quello che è aumentare anche il turismo sostenibile, quindi il ciclo turistico, le camminate, la conoscenza del territorio e dei prodotti del territorio. C'è un grosso progetto di riqualificazione energetica che riguarda gli infissi e l'illuminazione dovremmo esserci quasi se tutto va bene per maggio dovrebbe partire e questo ridurrebbe tantissimo quelli che sono i consumi energetici ma ci allontanerebbe quasi totalmente l'utilizzo del combustibile fossile. C'è anche il progetto di cominciare nel tempo a trasformare i mezzi pubblici in mezzi elettrici, quindi anche un'installazione della colonnina di ricarica elettrica. Da quattro anni viveva allacciato al contatore elettrico della casa vicina, disabitata. Un 46enne con precedenti di polizia è stato denunciato in vicolo chiuso a Sartirana in seguito a una visita dei carabinieri. Il furto di energia elettrica deve ancora essere calcolato nell'ammontare ma sicuramente superiore a 2.500 euro. Nell'appartamento inoltre l'uomo aveva allestito una serra per la coltivazione di marijuana con tanto di lampade riscaldanti e ventole. Seppure momentaneamente non funzionante, ha dichiarato di non essere stato in grado di metterla in funzione, l'apparecchiatura gli è costata una seconda denuncia per coltivazione di sostanze stupefacenti. Dieci giorni mancano alla Sagra del Salame d'Occa di Mortara. Sono state annunciate alcune novità. Formato rinnovato per la Sagra del Salame d'Occa di Mortara che andrà in scena dal 27 al 29 settembre. Comitato Sagra e Croce Rossa uniranno le loro forze per creare un grande ristorante da 500 posti in piazza Monsignor Dughera. Non sarà un tendone, accantonata quindi l'esperienza degli scorsi anni, ma i tavoli saranno comunque al coperto e accanto ci sarà una postazione per lo street food. Tornerà anche, dopo le limitazioni degli ultimi anni causa aviaria, la mostra del palmipede in grande stile. Confermati come da tradizione gli stand dei produttori e dei commercianti mortaresi. Il culmine naturalmente è nella giornata di domenica con la sfilata storica per le vie del centro e la disputa del paglio in piazza del teatro. Siamo alla 53esima edizione, un'edizione storica, ricca di tradizione, di cultura e di enogastronomia per la nostra città e per il nostro territorio. Il lavoro fatto in sinergia con il Comitato Sagra, con la Croce Rossa e tutti gli associati che hanno dato vita e forza al progetto per l'edizione 2019, non può che essere un grande richiamo per tutti i visitatori che arriveranno nelle prossime giornate a Mortara. L'obiettivo è quello di tenere alto il nome del commercio, del nostro prodotto tipico, di aggredire nuovi mercati e di farci conoscere sempre di più. Apriera sabato Cosmos il nuovo museo di storia naturale dell'Università di Pavia. Lo abbiamo visitato in anteprima. Apriera al pubblico il 21 settembre Cosmos, il nuovo polo museale dell'Università di Pavia realizzato all'interno di Palazzo Botta. Un viaggio alla scoperta della storia naturale, ma anche delle imprese scientifiche che ci hanno permesso di capire la variabilità e la nostra percezione della natura. In esposizione si troverà una selezione dell'enorme patrimonio naturalistico raccolto nel corso dei secoli dall'Università, uno tra i più ricchi al mondo, con i suoi circa 800.000 pezzi. La forza di un museo è quella di avere le variazioni delle specie e soprattutto il valore anche che sono perfettamente localizzate, nel senso che i reperti hanno tutti la loro etichetta con data, luogo, eccetera. L'altro punto che vorrei sottolineare è che questo è un lusso che non possiamo più permetterci. Alcune specie si sono estinte, altre non possiamo certo cacciarle per il nostro museo. Quindi queste dobbiamo mantenerle, soprattutto per le nuove generazioni. Altra cosa interessante, questa è un'immensa banca dati di DNA, eccetera, perché possiamo ricavare da questi reperti il DNA di specie che non esistono più. Un patrimonio finalmente a disposizione di tutti, grandi e bambini. Contestualmente all'inaugurazione del percorso espositivo sarà aperta al pubblico la nuova Sala delle Mostre Temporanee, che per l'occasione ospiterà un evento dedicato al tema dell'inquinamento marino causato dalle plastiche. Chiediamo con le immagini della notte che non c'era, evento di grande successo a Vigerano. Musica ed eventi hanno animato Vigerano per la notte che non c'era, al secondo appuntamento nell'anno leonardiano. Tante le attrazioni, praticamente ogni angolo del centro storico, con il castello che ha rappresentato il cuore della manifestazione. Questa sera tutto il castello è aperto, quindi abbiamo tutti gli spazi delle mostre, della pinacoteca, della mostra del volo, leonardiana, completamente aperti e gratuiti al pubblico fino a mezzanotte. Devo dire che è un successo annunciato come la prima edizione di giugno, anche questa sera abbiamo il tutto esaurito in tutte le vie del centro, in castello, nei musei, nelle zone dove la gente può vivere questa parte della città, con questi eventi teatralizzati, che era stata una mia richiesta fortemente voluta, chiesta all'amministrazione per preparare quanto potete vedere stasera, gli artisti si stanno prodigando in questa splendida cornice che nel nostro castello di Vigerano. Con questo è tutto, vi ricordo in prima serata la prima puntata della nuova edizione di Politica e la parola è il talk show condotto dal nostro direttore Stefano Catti. Buona serata.